Il Sinaco Marchion e gli assessori all'ambiente Antonucci e all'istruzione Pisanelli hanno preso parte a una riunione con i dirigenti delle scuole elementari e medie della città di Brindisi per la illustrazione del progetto di educazione ambientale e alla sostenibilità che l'ente ha predisposto insieme alla società AVR, concessionaria dei servizi di igiene urbana. Il progetto denominato Brindisi sia un futuro più green anche a scuola e rivolto proprio a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Brindisi. Grazie alla presenza di esperti del settore nelle scuole primarie e secondarie saranno attivati i laboratori scolastici ed una piattaforma educativa, mentre i bambini delle scuole elementari potranno partecipare anche al gioco concorso Le Copagelle di Capitaneco. I singoli istituti scolastici potranno aderire alla proposta entro il 30 novembre 2024 e comunque fino all'esaurimento dei posti disponibili. Le attività saranno ovviamente a titolo gratuito e l'avvio è previsto nel mese di dicembre. Cominvolgere i bambini e i ragazzi delle scuole è il sistema più efficace per coinvolgere le famiglie sugli obiettivi da raggiungere in campo ambientale. Ovviamente ci si aspetta piena collaborazione da parte del mondo scolastico che ha già manifestato grande disponibilità in tal senso. Far sentire più piccoli i protagonisti di un progetto di salvataggio del nostro ambiente è un traguardo importante verso la crescita di cittadini consapevoli e rispettosi delle regole del vivere civile. L'amministrazione comunale seguirà passo per passo lo svolgimento di queste iniziative per garantire il massimo supporto a chi può aiutarla a costruire una città più bella e pulita.